Regione Toscana, il Consiglio regionale. L'ultima seduta del Consiglio regionale ha visto tra i temi affrontati la collocazione in borsa del titolo della Multi Utility Toscana. La società, nata dalla fusione delle aziende di servizi locali, attiva nei settori di ambiente, ciclo idrico integrato ed energia. Sul ruolo della Multi Utility, il presidente Gianni in aula ha risposto ad un'interrogazione di Forza Italia che chiedeva chiarimenti sul ruolo del Partito Democratico sulla politica industriale della società. È stato argomento d'aula perché il presidente Gianni ha detto chiaramente che potrebbe essere una società non quotata in borsa. A nostro avviso questo è un elemento determinante ma chiaramente per come viene posta oggi la Multi Utility non ha molto senso posta così com'è. Noi crediamo per quanto riguarda per esempio la gestione del settore idrico e lo sta facendo proprio l'autorità idrica toscana anche in questo periodo delegando e quindi creando dei subambiti e quindi cercando in realtà una gestione ben diversa rispetto a quello che sui rifiuti, sulla gestione dell'acqua, dell'energia, la regione in questi anni ha cercato di accentrare. Sicuramente si sono peggiorati i servizi, si sono aumentati i costi e nei termini in cui questa discussione viene portata avanti sulla Multi Utility non crediamo che possano risolvere i problemi veri dei cittadini che è quello di pagare bollette meno care e servizi più adeguati. Io su questo esprimo un punto di vista personale. La Multi Utility è un progetto industriale che ha visto dei sindaci fare delle scelte rispetto a delle società partecipate. Non tutto il territorio toscano è stato coinvolto in questo percorso e credo che noi dobbiamo da nostra parte come politica toscana determinare le condizioni per il lavoro delle aziende in Toscana. Io sono un liberale convinto in termini economici. Noi mettiamo in campo le regole, mettiamo in campo la programmazione, definiamo quelli che sono gli impianti che servono per esempio rispetto alle produzioni e al riciclo dei rifiuti. Quindi dobbiamo consentire di avere l'energia, il calore per i toscani a un prezzo più basso per i cittadini e per le imprese, dobbiamo migliorare nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti e dobbiamo soprattutto favorire di avere un sistema industriale che produca delle economie. Poi i sindaci e le società partecipate devono fare il proprio lavoro. Quindi molte volte credo ci sia una sovrapposizione di ruoli. Molti sindaci a mio avviso sono entrati a cambatesa a sproposito su questa questione perché poi le aziende devono fare le aziende, i sindaci devono fare i sindaci e soprattutto la regione deve fare la regione. Io sto in regione e come tale il nostro compito è fare la programmazione e credo che la stiamo facendo e facendo bene. Intanto io penso questo. La costituzione della multutility è un passo avanti in Toscana nel processo di aggregazione delle aziende e dei servizi. È importante che questo processo vada avanti coinvolgendo sempre più territori come pare stia succedendo in questi mesi. Poi si porrà il tema di come finanziare gli investimenti. È una società che serve per fare investimenti nei rifiuti, nel settore idrico, nel settore energetico e quindi l'azienda poi dovrà porsi il tema di come finanziarsi. Se non è la borsa sarà un altro sistema, però l'aggregazione forte permette ai cittadini toscani di non avere soggetti industriali di altri luoghi che vengono a colonizzare la Toscana e quindi poi a fare utili sui servizi pubblici dei cittadini toscani. Questo è l'obiettivo, avere un soggetto strutturato che riesca a governare e a dare servizi pubblici essenziali per tutti noi, contenendo il più possibile i costi e facendo gli investimenti che sono necessari. Sulla multiutility diciamo che abbiamo avuto una clamorosa marcia indietro, una clamorosa marcia indietro soprattutto per quanto riguarda la questione della quotazione in borsa. Io credo che il tema della gestione complessiva dei servizi pubblici locali vada affrontato nel merito con un'analisi molto più profonda. La multiutility è uno strumento di gestione che è stato portato avanti da comuni importanti, chiaramente attrazione al Partito Democratico. C'erano delle condizioni quando questo progetto è partito, alla fine del 2020 circa, già dopo due anni noi siamo sostanzialmente a ridiscutere quello che è una scelta di politica industriale che però, permettetemi, nasce anche da un confronto politico interno alle forze di maggioranza che oggi hanno ribaltato quelle che erano le premesse iniziali. Io credo che su un tema come questo sia mancato un confronto nel merito delle scelte. Io penso che oggi la partita dei servizi pubblici locali, che non è solo piano dei rifiuti, che è la partita essenziale, anche perché oggi di impianti in Toscana, come ho già detto, non sappiamo ancora dove saranno localizzate e quali saranno, nonostante le manifestazioni di interesse. Ma il servizio pubblico è anche gestione del servizio idrico, è gestione anche del trasporto pubblico. Noi abbiamo delle partite importanti che oggi si giocano sulla pelle, sulle spalle dei consumatori e questo naturalmente implica che ci sia una sempre maggiore vigilanza anche da parte del soggetto pubblico e non può solo giocare il ruolo di un attore economico, ma deve svolgere anche un ruolo pregnante appunto da un punto di vista di controlli. Sì, io partirei addirittura dall'utilità o meno della multi-utility. Io, il mio territorio è Grosseto, è la Maremma, conseguentemente non voglio precorrere nessun tipo di tempo, ma siamo sempre stati un po' la periferia dell'impero e conseguentemente andare in una multi-utility dove si conta veramente poco, quindi Firenze centrica, eccetera, sinceramente proprio non mi va. Dal punto di vista politico, meno male che c'è stato uno stop e quindi io auspico un ripensamento su tutta la situazione. Lo scontro che sta avvenendo all'interno della maggioranza sulla questione multi-utility è lo specchio della confusione che regna a livello di visione che c'è in questa maggioranza e in questa giunta e che lei è la cosa che ci preoccupa di più. Noi siamo fortemente contrari innanzitutto alla quotazione in borsa, che significa mettere le tariffe e le cifre delle nostre tariffe dei servizi, quindi l'acqua, il gas e la gestione dei rifiuti, nelle mani di una borsa che è completamente staccata da quella che invece sono le funzionalità. Soprattutto l'acqua, che dal referendum di ormai di più di dieci anni fa deve ritornare pienamente pubblica. E siamo fortemente contrari anche perché quello che riguarda il piano rifiuti e che è profondamente legato al progetto di multi-utility fa capire che probabilmente non ci sarebbe neanche la tenuta finanziaria per un progetto del genere. Ecco perché continuiamo a portare avanti, a sostenere la totale contrarietà e anzi sosteniamo la ripubblicizzazione completa di tutte le società che gestiscono acqua, ma anche quelle che gestiscono gli altri servizi essenziali per la popolazione. Corecom Tour è la prima campagna di ascolto e informazione del Comitato Toscano per le Comunicazioni che si è posto all'obiettivo di visitare le principali città toscane e incontrare amministrazioni locali e associazioni per illustrare le funzioni e le attività del Corecom e gli strumenti a disposizione dei cittadini per contrastare bollette anomale ed i servizi in tema di telecomunicazioni. La prima tappa è stata a Prato ed è stata anche l'occasione per annunciare il prossimo avvio degli stati generali dell'informazione e della comunicazione. È una ricerca svolta da IRPET, rivolta alla conoscenza della realtà informativa e comunicativa della Toscana. Sì, parte questo primo Corecom Tour che facciamo un po' in giro in tutta la Toscana. Partiamo oggi da Prato ma poi continueremo a Pistoia, Lucca e in tutte le città capoluogo della Toscana. Ci sembrava importante e necessario fare questa campagna di informazione ma anche di ascolto andando in giro e illustrando le funzioni del Corecom che è l'organo di consulenza e di garanzia della regione toscana nella comunicazione dando informazioni sulle varie funzioni sia per quanto riguarda in generale la vigilanza e la gestione sovraintendere a quelle che sono le programmazioni televisive e radiofoniche in Toscana ma in generale anche mettere al corrente di tutte le funzioni. Penso per esempio a tutta l'attività importante che facciamo sul patentino digitale che è quella informazione e formazione che viene fatta ai ragazzi delle prime medie della Toscana in modo da renderli consapevoli di un uso sicuro di internet e dei social. Penso a tutto il tema anche che riguarda le gestioni delle controverse telefoniche tra i cittadini e le compagnie telefoniche, le tv a pagamento e internet in modo che in questo senso il Corecom svolge una funzione di conciliazione gratuita, un servizio gratuito in un tema molto sentito e che è vissuto quotidianamente dai cittadini. Spesso sconosciuto, la maggior parte dei cittadini, quindi io ringrazio il Corecom per questo tour che sta facendo in tutte le province. È un'istituzione molto importante, è una garanzia per tutti i cittadini e conoscerne poi i meccanismi oltre ai progetti e quindi un'attività che ha subito anche un grande impulso negli ultimi anni è importante soprattutto per quanto riguarda le controverse, per esempio in materia di telecomunicazioni ma anche progetti rivolti ai giovani, quindi tutto quel mondo che è la comunicazione che è sicuramente un mondo delicato, che dovrebbe essere messo a disposizione di tutti i cittadini. Qualsiasi iniziativa come questa che ne promuovono l'informazione e anche l'accessibilità da parte delle persone è benvenuta perché sicuramente è un modo in più per far capire che questo organismo è a servizio delle persone e quindi la regione toscana ha pensato ad un qualcosa che potesse avvicinare i cittadini e sentirsi meno soli soprattutto in tema di comunicazioni. Sì, un tour importante, noi siamo ovviamente felici del fatto che parta proprio da Prato e che veda la nostra provincia la prima coinvolta in questo progetto di conoscenza ed illustrazione delle numerose competenze e attività che il Corecom Toscana effetto e porta avanti per i cittadini e per tutti coloro che sono coinvolti nel mondo della comunicazione. È un organo questo importante, devo dire insomma assolve veramente delle funzioni strategiche anche riguardo alla vita e alla quotidianità delle persone. Penso ad esempio a due tra i numerosi compiti che assolve, innanzitutto quello delle controversie riguardanti ovviamente internet, le operatori telefonici o ancora i contratti con le pay tv che è secondo me un servizio fondamentale, completamente gratuito a servizio del cittadino che può aiutare diciamo le singole persone nelle difficoltà che hanno con i singoli operatori e di risolvere i propri problemi. Io anche i dati che sono stati illustrati vi ritengo davvero straordinari, l'83% di queste controversie trovano una soluzione positiva e quindi tutto questo insomma mi porta a cercare ovviamente di varconoscere sempre di più quello che è l'attività e la funzione del Corecom. Accanto a questo un tema che mi sta particolarmente a cuore quello di quanto sia importante trasmettere e far conoscere soprattutto ai più giovani i buoni comportamenti, le buone pratiche riguardanti il mondo digitale soprattutto il mondo dei social e questa è un'attività che Corecom porta avanti con le scuole con il patentino digitale che aiuta e penso che questo sia fondamentale avere corretti comportamenti, rispetto e quella deve essere la modalità giusta di rapportarsi con i mezzi tecnologici. Quindi sicuramente un tour importante, onorati di partire da qui, da Prato e felici insomma di avere a disposizione una struttura, un organo che attraverso la regione toscana insomma a tutti i cittadini in modo gratuito può dare tante risposte. Il Consiglio regionale consegna le ali del Pegaso a Simone Velasco, il giovane ciclista campione italiano. Simone Velasco, 27 anni, ha origine ilbane e ha vinto a Comano Terme in provincia di Trento la prova in linea del campionato italiano dei professionisti. È stato premiato come toscano e come esempio per i giovani e lo sport nella nostra regione. È un grande orgoglio, è il motivo per il quale il Consiglio regionale consegna la massima onorificenza alle ali del Pegaso che è il senso di un giovane che vola, è volato a vincere un campionato italiano e indossare una maglia tricolore che nel ciclismo ha un valore importante perché se la porterà con sé per un anno in tutte le competizioni professionistiche porta in giro il nome dell'Italia nel mondo ma porta in giro la nostra isola, l'Elba che poi di fatto è un'isola che rappresenta la Toscana e questo per noi è un motivo di soddisfazione, questo è un riconoscimento che per quanto mi riguarda ha anche un motivo di grande soddisfazione non soltanto per aver praticato il ciclismo a livello agonistico per essere un amante di questo sport ma un grande riconoscimento a un giovane che ha davanti a sé una grande strada, un grande futuro e soprattutto anche un momento delicato per lui dopo l'ultima caduta quindi anche l'occasione per confortarlo rispetto a una conclusione della stagione che comunque rimarrà nella storia della Toscana e del ciclismo a livello nazionale. Devo ringraziare tutti per questo bellissimo riconoscimento, per me è un onore quest'anno è stata un'annata quasi magica e abbiamo raggiunto grandi risultati tra cui la maglia tricolore che è un motivo di grande orgoglio per noi e dai, siamo fiduciosi di poter continuare su questa strada Indossare la maglia tricolore lungo tutte le strade del mondo è sempre un brivido che corre lungo la schiena è la responsabilità di una nazione e quindi è appunto una spinta in più a dare sempre il massimo e a far vedere quanto vale la nostra terra il sogno sarebbe prendere parte al Tour de France, quest'anno parte proprio qua da Firenze e sarebbe una grande cosa Regione Toscana Il Consiglio Regionale